Vi ricordate il decreto IMU Banca Italia che regalava 7 miliardi e mezzo alle banche private? Vi ricordate la ghigliottina messa dalla Presidente Boldrini per impedirci di fermarlo? Per aver tentato di fermare questa porcata, 26 di noi sono stati sospesi. Noi però non staremo a guardare. Abbiamo deciso di raccontare a tutti i cittadini d'Italia cosa succede dentro questi palazzi. Per questo gireremo l'Italia intera. La Cifermate Tour toccherà in un mese 80 città. Saremo nelle piazze, nei mercati e lo faremo con un camper girando tutta l'Italia. Grazie. 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 Grazie.